Si taglia di gran lunga e si controlla in maniera più seria la protezione umanitaria che era regalata a decine di migliaia di soggetti che poi gli italiani mantenevano qua per due anni. Quindi si dà asilo politico a chi lo merita, a chi scappa dalla guerra, a chi ha gravissime malattie, a chi è stato vittima di violenza sessuale, per caità di Dio, alle vittime della tratta, per tutti gli altri è finita la pacchia.